La notizia era nell'aria da tempo, adesso assume i crismi dell'ufficialità Walter Sabatini, non è più il direttore sportivo della Roma, domani conferenza a Trigoria alle ore 13. Motogomme donati dal 1970 al leader nella vendita, montaggio, controllo dei pneumatici per moto e scooter. A comunicarlo è la Roma sul proprio sito internet ufficiale asroma.com. La S Roma e Walter Sabatini annunciano di aver deciso di terminare consensualmente il rapporto lavorativo con effetto a partire da domani, 7 ottobre del 2016. La S Roma ringrazia Walter Sabatini per il lavoro svolto in questi cinque anni e gli augura il meglio per il futuro. Vorrei ringraziare Walter per quello che ha fatto per la Roma e per la sua dedizione nei confronti del nostro club, ha affermato in una nota il presidente James Pallotta. Vorrei anche ringraziarlo per tutto quello che ho imparato da lui. Smetti di fumare, per favore, la direzione sportiva verrà affidata a Frederic Massara. Motogomme donati dal 1970 al leader nella vendita, montaggio, controllo dei pneumatici per moto e scooter. Pirelli, Metzler, Dunlop, Bridgestone, Michelin, Gomeslick, mescola, strada, enduro o scooter specializzati in Harley Davidson. Da noi troverai in anteprima tutti i nuovi modelli di pneumatici moto a prezzi incredibili, con montaggio in tempi rapidissimi. Motogomme donati, unico punto a Roma, Pirelli Ride Passion. Divorzio consensuale dunque, le parti si lasciano senza asti o domani. Parola per l'ultima volta dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, proprio all'oramai ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, che alle ore 13 incontrerà i giornalisti per dare il proprio commiato e per fare un bilancio, evidentemente, dei cinque anni in giallo-rosso, e soprattutto per dare delle spiegazioni e delle risposte all'ultima controversa sessione di mercato che è stata imputata al direttore sportivo oramai uscente della Roma. Appuntamento dunque anche su Audio Sport News domani dalle 13 con la conferenza stampa di Walter Sabatini.